Noi lavoriamo come se non avessimo problemi economici, cioè noi abbiamo l'obbligo, lavorando con le recensioni, con la distanza, quindi alla luce del sole con internet, possiamo essere in qualsiasi momento, essere recensiti, o cambiata anche la recensione, abbiamo l'obbligo di non creare queste situazioni critiche, come alla fonte, andando a selezionare, mettendo nel preventivo tutto quello che va cambiato. Ok, dovrebbe essere cambiato. Poi, se un paziente non può eseguire questi trattamenti, perché per una mera questione economica, che ancora non può, qual è la soluzione giusta? L'invira. Bravo, punto. Aspetta un anno, due anni, metti da parte ma fai il trattamento completo. A meno che non ti trovi di fronte a uno stadio proprio di emergenza, dove c'hai ascessi, dove hai problemi gravi che mettono in pericolo lì proprio la vita del paziente. Se no, la cosa sempre corretta da fare è fare la terapia giusta, che va fatta, non la terapia a metà. Oppure fare le terapie in due tempi. Questo era il succo della discussione di oggi, che le terapie devono essere corrette nell'interesse del paziente, di uscire poi da questa spirale, non di continuare a restare dentro. Ci sono i pazienti che sono ormai stati fregati alla grande, che sono quelli ormai in stadio terminale, il più delle volte, che ormai li hanno passate tutte. A un certo punto hanno addirittura rinunciato alle cure e sono andati verso l'accelerazione poi della patologia. Ci sono invece pazienti che rischiano di restare dentro, perché entra, non so se vi è mai capitato di acquistare qualcosa che poi non l'hai acquistato perché devi acquistare anche quello. Poi acquisti quello, ma devi anche acquistare questo. Provi quella sensazione di essere rinchiuso dentro proprio una... si chiama un continuity program, quello dove devi continuare, poi sei dentro ormai testa e piedi. Ok, delle volte è il commercialista o quello che ti fa la consulenza gratuita e serve solo per misurare la tasca, per pesarla e poi vedere quanto ti può spolpare mese dopo mese o negli anni. Ok, mi è capitato in diversi settori. Cioè facciamo tutto quello che c'è da fare, mettimelo per iscritto, poi se non sono ancora nelle condizioni di potermelo permettere di iniziare, aspettare, allora prendere tempo. Però in alcune nazioni, ripeto, questo diventa un po' difficile perché c'è la tendenza a voler buttare dentro comunque il paziente. Cioè non si ha il coraggio di dire questo è tutto quello che va fatto. Invece delle volte il medico dovrebbe ricordarsi che prima di tutto l'interesse del paziente è quello di uscirne, cioè se viene da noi è perché non vuole essere malato e non continuare a tenerlo in uno stato subclinico dove pare che sta bene, però tanto tra un mese, un anno deve tornare. E questo capita per esempio con i pazienti anche che devono fare tutta la bocca, dove magari vendono, vendono, propongono dei trattamenti di arcate complete su impianti che poi non sono delle arcate definitive, ma sono delle arcate provvisorie. Neanche la metti nel preventivo perché poi gli ammetto fra due anni quando quella si deteriora. Lo dovresti invece prevedere prima quello. Gli unici casi in cui non puoi mettere qualcosa in preventivo è quando non lo puoi prevedere, quello che ci andrà dopo. Da noi per esempio quelli sono i casi di chirurgia maxillofacciale, di impianti zigomatici, pazienti che è probabile che gli mettiamo i denti avvitati, probabile che finiscono con la protesi, con la barra che si rimuove. Non possiamo sapere sinché non abbiamo tutti gli impianti integrati, sapere quello che si può fare lì. E allora lì ti possiamo dire solo, possiamo fare questo, 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 ma non sappiamo ancora quello che si può fare. E questo è quanto. Quindi se immaginiamo quel paziente, non in Sardegna, che deve mettere cinque denti e alla fine va a spendere diecimila euro, viene da noi, mette gli impianti e ne spende, esagero, 600 euro a dente. Per cinque sono 3.500, però poi in più sostituiamo un ponte, raddrizziamo l'apparecchio, con l'apparecchio, 1.700 euro. E siamo a 4.500 più 7, 5.200, più il ponte fa gli altri 150, sono sei denti, metti che arriva 8.000, ok, mettendoci anche devitalizzazioni e altre cose, vede quello e quello, poi dice ma è come se mi curo qua da me? Cambia quello che c'è dentro, più ci metti il viaggio, l'alloggio, devi mangiare fuori, male qui, mangi bene, poi vi do consigli dove andare a mangiare qua. Sto ancora dalla moglie? Sì, quello... Questo mi stesse, secondo me, è un po' più grande come voi. Gli imprevisti ci possono essere, le cose non vanno mai, quasi mai nella vita come t'aspetti, il paziente è magari che deve tornare una terza volta, una quarta volta, e allora capisci che non puoi guardare solamente l'albero, quando programmi una terapia, devi guardare anche gli imprevisti, che ci possono essere qua, le infezioni come là, devi comunque pensare più 20% quando fai alla fine un preventivo, io ormai ho imparato, faccio sempre il preventivo, più 20%, imprevisti, variabili e altre cose che ci possono essere. E alla fine, quando tiri questa linea, converrà o non converrà, in quei casi, ci sono alcuni casi sotto una certa soglia, che ormai ho calcolato essere sotto i 6-7 mila euro, dove conviene fare o, a quel punto se vai fuori, di più di quello che dovresti fare, proprio risolvi tutto, anche l'aspetto estetico, tutto, così c'hai un vantaggio nell'aver fatto tutto il percorso. Invece fare le cose strette, necessarie, indispensabili, quello conviene a quel punto farlo in altre nazioni, o nella tua nazione dove vivi, o a Bergamo da Dottor Palmas, in futuro. Grazie a tutti.